Benvenuti alla scoperta delle tavole didattiche di Giulio Bizzozzero. Riccardo ed io vi accompagneremo in un viaggio virtuale nel materiale didattico sul quale, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, gli studenti di medicina hanno studiato le cellule, i tessuti e gli organi. Per fare questo dobbiamo addentrarci nell'unità di medicina sperimentale e patologia clinica del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche. Questa unità è stata per lungo tempo indicata come Istituto di Patologia Generale. Al suo interno è conservata quella che, sulla base della numerosità e della qualità, è considerata la più importante collezione di tavole di istologia normale e patologica d'Italia. Giulio Bizzozzero era dotato di un talento naturale per l'osservazione per il disegno e per questo motivo, già durante la sua carriera di studente, eseguì numerose tavole che illustravano soprattutto le scoperte scientifiche del suo maestro Mantegazza. Bizzozzero continuò la produzione delle tavole per tutta la durata della sua attività didattica e coinvolse in questo anche alcuni suoi allievi. Tra questi ricordiamo De Toma, Salvioli e Calderara che hanno firmato alcuni disegni. Le tavole sono state a lungo utilizzate durante le lezioni, appese alle pareti delle aule, ma sono state anche inserite nei trattati scientifici scritti da Bizzozzero stesso. I soggetti delle tavole che sono state realizzate su carta da disegno pesante o rappresentano i risultati delle scoperte scientifiche di Bizzozzero della sua scuola o sono la riproduzione dei disegni di altri istologi del tempo. In queste due tavole è possibile osservare le fasi di sviluppo dell'occhio e l'anatomia dell'orecchio. Anche se sono state realizzate oramai più di 140 anni fa, le tavole istologiche di Giulio Bizzozzero sono ancora attualissime, a testimonianza dell'elevata accuratezza con la quale sono state prodotte e dell'altrettanto elevata competenza scientifica di questo studioso. Nelle immagini successive vi illustreremo la corrispondenza tra alcuni disegni di Giulio Bizzozzero e le immagini ottenute con le più moderne tecniche di microscopia. La prima tavola che vedremo insieme rappresenta, come indicato da Bizzozzero, il ruolo delle piastrine nella coagulazione. Voi sapete che Bizzozzero ha scoperto questi corpuscoli presenti nel nostro sangue e coinvolti nella formazione del coagulo. Bizzozzero non le ha solo scoperte, ma le ha anche disegnate. Nella tavola a sinistra, infatti, sono rappresentati i globuli rossi, degli aggregati di piastrine e una fitta rete di fibrina che contribuisce alla formazione del coagulo. A destra è presentato un preparato simile osservato con un microscopio elettronico a scansione. In queste immagini potete apprezzare l'elevata corrispondenza tra la struttura istologica del tessuto osseo disegnata da Bizzozzero e quella osservata con un moderno microscopio e una colorazione volta a evidenziare il tessuto osseo stesso. Un discorso analogo vale per quanto riguarda le fibre del tessuto muscolare. In queste immagini possiamo vedere il muscolo striato scheletrico, a sinistra disegnato da Bizzozzero, e a destra in microscopia. Queste altre fibre muscolari striate, invece, sono quelle del miocardio e da sottolineare l'accuratezza dei dettagli presenti nella tavola di Bizzozzero. Stesse considerazioni possono essere fatte per quelli che Bizzozzero ha chiamato epiteli di rivestimento. In questo disegno potete vedere lo strato più superficiale dell'epiteglio che riveste i villi intestinali e ritrovare nell'immagine a destra lo stesso tipo di cellule. Queste due immagini rappresentano forse uno dei migliori esempi di quelle che sono l'attualità e l'accuratezza delle tavole. Infatti potete vedere che l'immagine ottenuta al microscopio è quasi del tutto sovrapponibile al disegno delle ghiandole salivari fatto da Bizzozzero. Questa tavola illustra la struttura microscopica del fegato. Bizzozzero ha rappresentato una sezione trasversale dell'obulo epatico. La stessa struttura con l'avena centrolobulare può essere osservata anche nel preparato a destra ottenuto con una colorazione istologica. In questa immagine potete vedere il parallelo tra la struttura e la distribuzione cellulare nell'ambito della corteccia cerebrale, a sinistra disegnata da Bizzozzero, a destra evidenziata con una particolare colorazione istologica specifica per questo tipo di cellule. Anche in questa tavola sono rappresentati due tipi di cellule del sistema nervoso, le cellule del Purchini e le cellule piramidali. Le cellule del Purchini sono quelle a sinistra nella tavola di Bizzozzero e a destra in alto nell'immagine al microscopio, mentre le cellule piramidali sono a destra nella tavola e in basso al microscopio. In quest'ultima tavola che vediamo insieme è disegnato il processo di sviluppo di un dente umano. Vedete che già nel disegno di Bizzozzero è osservabile l'abbozzo del dente in via di formazione, abbozzo che si individua anche nel preparato a destra. Il breve viaggio nelle tavole di Giulio Bizzozzero e nella didattica di fine ottocento purtroppo termina qua. Se vi è piaciuto potete ripercorrerlo virtualmente insieme a noi oppure quando terminerà l'attuale emergenza durante la prossima notte del ricercatore potete venire a vedere di persona i disegni presso l'Istituto di Patologia Generale in corso Raffaello 30. Vi aspettiamo!